un punto c'è una penalizza molto alla fine il 4 1 il calcio al di là delle seconde linee devo essere onesto prendere il passaggio anche il partito si è molto rabbugliato no 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 non sono rabbugliato io l'ho rabbugliata la mattina e abbiamo sbagliato 7 pallegole ma abbiamo entrato a partire stasera è stato un test utile abbiamo avuto anche qualche indicazione positiva e pensiamo dimentichiamoci di questa partita e pensiamo nessina perché anche loro vengono sconfitto a Foncia e domenica e sabato dobbiamo cercare con tutte le forze e con tutti i modi di fare risultato